Tante le polemiche sul televoto. La mia è una proposta. Visto che i talent si risolvono con il televoto, perché il prossimo anno e il festa di Sanremo non lo fanno con una giuria di qualità e una giuria demoscopica? Così si evitano polemiche. Come facevi tu? Una giuria demoscopica, una giuria di qualità, che può essere l'orchestra piuttosto che dei lavori, come è successo nel passato. Visto che il podio era tutto maschile, devo dire che...